Buongiorno dai Due Cammino! Dove andiamo oggi? A cercare una sorgente d'alta montagna. Su Cervinio? No, a Milano. Andiamo a Milano. Il Cervinio? Ma che è il Cervinio? È una montagna brasiliana. Se state pensando, io questo stile architettonico l'ho già visto, avete ragione, perché ricorda lo stile in cui sono state costruite le centrali elettriche sull'Adda, la Bertini e la Esterle. La Bertini è nel 1898, la Esterle è stata iniziata nel 1906, proprio come la centrale dell'acqua di Milano, che è stata costruita nel 1906. Praticamente aveva quattro pompe, due fisse, due ammovibili o qualcosa del genere, e pescava acqua da dieci pozzi a 60 metri di profondità e forniva acqua a gran parte della città di Milano. Ora non è più in uso, ma è stata trasformata da metropolitana milanese, che c'era in gestione, in uno spazio esplosistivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo giocando, eh? C'è un sacco di modo di fare. chiesa di San Bernardino Leossa, c'è un nostro video apposito sul canale, lo lasciamo qui sotto in descrizione. Gli operatori scavati sono dei supereroi. Gli supereroi del sottosuolo milanese? Sì. Perché? Eh vabbè, qui era un nostro Milano Underground. Milano Underground. Fino al 31 ottobre 2023. Perché abbiamo detto che siamo alla ricerca di una fonte d'alta montagna? perché nel 1907, dopo l'entrata in funzione della centrale, le analisi che sono state effettuate sull'acqua che veniva captata dai pozzi qui sotto, hanno dato come risultato che la qualità era talmente elevata che era paragonabile e superiore a diverse sorgenti d'alta montagna. Adesso poi non so se sia ancora così, però nel 1907 sì. Giulia di fianco ha una vedovella che è la tipica fontanella in ghisa di Milano, che però dovrebbe essere alti 1,50 m queste fontanelle. Sì. Questa è più alta. Questa è più alta. O sei tu che ti sei ristretta. Ci fanno una mano, è grande. Si chiamano vedovelle perché gli avevamo paragonato l'acqua che scende continuamente dall'ugello della fontana al pianto inconsobrabile di una vedova. Anche se io conosco vedove che una volta diventate tali hanno festeggiato altro che piangere. E il doccione cosa dice? Sì, ecco, invece l'ugello della fontana ricorda i doccioni del Duomo. È un dragone, infatti il secondo nome delle fontane sono i draghi verdi. Infatti io li conosco più come draghi verdi che come vedovelle. Io entrambi. Tu entrambi. Questa è fatta in Lego. In effetti è un film. Un film più bassa di Svetta Giulia. Siete che l'altra l'hanno montata solo un po' di vista. Io mi ero preparati a casa le nozioni ma in realtà erano già qua. Potevo fare meglio di studiarmele. Comunque ci sono 641. E noi mi è tolto che sono 570. Il numero varia da ponte a ponte. Il numero varia. Quindi il numero di vedovelle o... Ma chiusi a sapere se volete un cammino su tutte le vedovelle. Sì, ma te lo fai te, te lo fai. Perché io giravo a Milano per cercare in tutte le 641 vedovelle che potrebbero essere 570. Anche no. Va bene. Questa è la centrale dell'acqua di Milano. Non è più in funzione ovviamente. Gli impianti sono stati dismessi. Però si è recuperata come spazio esplosivo. Allora c'è ancora il carro ponte. Molto bello. Fateci un salto. È aperta la domenica dalle 2 alle 6 e mezza. Anche il sabato forse. Comunque sul sito ci sono tutti gli orari. Chiudete per pranzo. Chiudete per pranzo. Andate a mangiare qualcosa anche voi. Sotto, a Cernuscolo su Mondaviglio, sotto l'ospedale Uboldo, c'è tutto un sistema di grotte in cui filtra l'acqua. Anzi si ritiene che sia un percorso di iniziazione massonica addirittura, secondo i cosiddetti tempi della notte. Pensa a te. 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 Pensa a te.